Kate, duchessa di Cambridge è stata elogiata per le sue recenti scelte di moda, mentre Meghan Markle è stata criticata per essersi vestita in un modo totalmente inappropriato per la situazione in cui si trova, domenica scorsa, il duca e la duchessa di Cambridge hanno camminato sul tappeto verde alla cerimonia inaugurale dell'Earth Shot Prize. L'evento ha premiato 5 vincitori, ciascuno dei quali ha ricevuto un milione di sterline, per aver proposto innovazioni sostenibili, agli ospiti è stato chiesto dal principe William e da Kate, entrambi 39 anni, di considerare l'ambiente nella scelta del proprio outfit, e la coppia ha dato l'esempio con le proprie scelte di guardaroba. Mentre il futuro re ha indossato di nuovo un blazer di velluto verde scuro che in precedenza aveva sfoggiato per un gala di beneficenza nel 2019 insieme a pantaloni di 20 anni, Kate ha optato per un abito lilla di Alexander McQueen risalente al 2011. Il suo ensemble è stato elogiato dalle pubbliche relazioni di moda e dall'ex consulente di etichetta Charlotte Ellis, che afferma che il reale ha mostrato sia sensibilità che senso comune. . Ha detto a Express.co.uk, Kate ha mostrato ancora una volta la sua sensibilità e buon senso quando ha indossato l'abito di Alexander McQueen ai recenti Earthshot Awards. Era radiosa con l'abito riciclato in stile greco che indossò per la prima volta dieci anni fa. Sa bene che un bellissimo abito classico di alta moda non risale mai e che indossare un abito riciclato era anche in sintonia con il tema della sostenibilità dell'evento. La duchessa indossa spesso pezzi che possiede da prima di avere tre figli, tra cui un viaggio al Center for. Longitudinal Studies dell'University College di Londra il 5 ottobre, dove è stata vista sfoggiare un abito Zara da 16 sterline che aveva precedentemente mostrato a Bradford l'anno scorso. Anche per una visita a Kew Gardens con suo marito all'inizio di questo mese, Kate ha rispolverato un cappotto Herdem Color Smeraldo indossato per la prima volta nel 2014 e le sue azioni sono state elogiate dall'esperto del settore.